Una sparatoria a Vittoria intorno alle 19.30 di ieri. Alla base una litera a due giovani fidanzati che si è trasformato in una rissa familiare nella zona attigua al Mercato dei Fiori. La coppia di ventenni si frequentava ad alcune settimane in un rapporto molto turbolento e violento. Domenica sera una litera degenerata violentemente. La ragazza era tornata a casa col volto tumefatto. Alle richieste di spiegazione dei genitori però lei aveva minimizzato, ma il padre è riuscito a sapere chi era il ragazzo autore di quelle lesioni e insieme a due parenti individuata lapidazione sono andati a cercarlo a casa. Dopo alcuni minuti è stato il ragazzo con due suoi parenti a recarsi a casa della giovane. Sono partiti pugni e spintoni, poi uno è estratto un'arma, inseguendo due della controparte e sparando a braccio teso e ad altezza d'uomo. Uno di questi proiettili è finito sull'auto di una signora che stava passando in quel momento da quella strada. Nessun ferito fortunatamente, poi tutti si sono dileguati. La polizia però è riuscita a rintracciarli. Sono partite le perquisizioni domiciliari anche con unità cinofili antidroga e anti-esplosivi della polizia di Catania. Sono state sequestrate numerose armi legalmente detenuti dal padre della ragazza e la polizia scientifica ha eseguito rilievi e prelievi sui luoghi dell'evento. Sei sono le persone condotte in commissariato, quattro incensurati, due invece rispettivamente zii del ragazzo e della ragazza, sono soggetti ben noti alla polizia. Dalle indagini emerge che è stato Giuseppe Russo, classe 60, già condannato per traffico di stupefacenti e arrestato per associazione a delinquere di tipo mafioso ad aver esploso corpi d'arma da fuoco con l'intenzione di attingere il fidanzato della nipote e il fratello che a cortosi della pistola si sono dati alla fuga. All'alba Russo è stato tratto in arresto per tentato omicidio e porto illegale d'arma da sparo e condotto presso il carcere di Ragusa. Le indagini stanno continuando volte ad accertare ulteriori responsabilità penali e alla ricerca dell'arma utilizzata, una calibro 7,65.